Siamo a guardare il tramonto sulla D80, precisamente ci troviamo tra Pinu e Nonza più o meno, stiamo riscendendo verso San Florant, il paesaggio è incantevole, parla da solo perché c'è bisogno di commenti. Ecco, guarda, queste montagne sono veramente uno spettacolo, lì sullo sfondo c'è San Florant, c'è adesso, bravo, ciao a tutti, ciao Pinu, questo è Pinu, quello è Pinu, il paesino di Pinu.